E' l'una e mezza di notte quando alla periferia di Cavallino nel Leccese scoppia l'inferno. Bruciano 15 mezzi dell'Universal Auto, tutte parcheggiate nel piazzale esterno dell'azienda. Diverse le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce impegnate fino all'alba per spegnere i roghi e avviare gli accertamenti del caso. Sul fatto sono già a lavoro i carabinieri per far luce su quanto accaduto, soprattutto per dare un nome ai responsabili di quello che sembrerebbe un atto doloso. Il vasto incendio si è verificato nell'autoparco dell'Universal Auto dove sono andate bruciate 15 autovetture poste in esposizione all'esterno dell'edificio che ospita gli uffici della concessionaria. Diverse fra queste erano microcar che si sono praticamente liquefatte, ma non solo. Altri mezzi erano veicoli usati fra autovetture e furgoni che hanno subito danni in qualche caso notevoli. Si tratta dunque di un'intimidazione ai danni della famiglia proprietaria dell'autosalone molto nota nel circondario di Cavallino e Castromediano per via della gestione di diverse attività fra cui distributori di carburante. Un atto però ora senza movente. La vittima infatti non nutrirebbe particolari sospetti e le indagini dei carabinieri della stazione locale non saranno semplici perché nel luogo non sembra che vi fossero telecamere attive. Bisognerà cercare altre nelle vicinanze, ma non è molto semplice dato che l'autoparco si trova sulla strada provinciale 23 che porta da Lecce a Cavallino, qualche centinaio di metri prima di entrare in paese in una zona isolata e circondata da campagne.